Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la questione balneabilità a Pescara, nuovi sversamenti in mare e di nuovo divieto di fare il bagno. Il centrodestra pescarese, dopo tante polemiche, chiede che sia dedicata alla questione una seduta di consiglio comunale straordinaria. Vediamo tutti i particolari nel servizio di Francesca e Romana Testi. Si continua a parlare della situazione dell'Aca, dello sversamento di liquami nel fiume, si torna a parlare della balneabilità che è vietata a Pescara e allora in questo quadro la posizione dell'opposizione qual è? La posizione dell'opposizione è quella di aver richiesto subito un consiglio straordinario, urgente, proprio per discutere la questione e soprattutto per fare chiarezza su questa questione. Oramai stiamo parlando da mesi, mesi, mesi e mesi, da oltre un anno, devo dire, della questione del mare inquinato e non solo noi, ma i cittadini pescaresi sono oramai stanchi e esausti di questa situazione. Noi non ci interessa sapere se la responsabilità è dell'Aca, dell'Arta, del comune di Pescara. Noi vogliamo godere e usufruire della balneabilità e del mare di Pescara che è una risorsa non solo per noi ma per l'intera regione. In più c'è da dire veramente che le dichiarazioni del sindaco Alessandrini sono disarmanti, sono disarmanti proprio alla luce di quello che è successo l'anno scorso e di quello che è successo ieri o l'altro ieri. Per 20 minuti di sversamenti di liquami dal fiume nel mare nostro, il sindaco senza attendere le analisi dell'Arta ha disposto il divieto assoluto di balneazione. Quando invece l'anno scorso per 17 o 18 ore di sversamenti di liquami non è stato fatto il divieto di balneazione, è stata data l'ordinanza del divieto di balneazione. Quindi è veramente allucinante la posizione del sindaco e devo dire anche che la posizione del sindaco è indifendibile considerato che 20 giorni fa in sede di approvazione del bilancio all'Assemblea dell'Aca il sindaco ha votato per un rinvio sulle questioni attinenti al bilancio dove tra l'altro c'era anche il piano degli investimenti che l'Aca avrebbe dovuto fare. Questa mattina era in programma una seduta del Consiglio regionale ma poco fa il presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio ha comunicato che la seduta avrà inizio solamente alle ore 15, seduta posticipata al pomeriggio giustificata dal lavoro prolungato della prima e della seconda commissione. La prima commissione è quella bilancio, la seconda commissione è quella territorio. Ritrovata in un paesino della provincia di Chieti la giovane Aquilana che era scomparsa sabato scorso. Il servizio curato per noi da Giorgio Alessandri. Sta bene ed è stata ritrovata Valentina Timoncini la 22enne residente nella frazione Aquilana di Cese di Preturo scomparsa nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Si trovava a Monte Ferrante in provincia di Chieti dove sarebbe giunta da sola domenica pomeriggio. Dopo aver vagato per il paese una signora anziana del luogo è la prima ospitata in casa e poi rifocillata permettendole di passare la notte nella sua abitazione. Ieri mattina la notizia della ragazza che era stata ospitata dall'anziana ha fatto il giro del paese ed alcuni, dopo aver visto la sua foto sui media hanno chiamato i carabinieri di bomba coordinati dal comandante di stazione Vito Gian Lorenzo. Già in serata la 22enne avrebbe fatto ritorno a casa accompagnata dai propri genitori. Prima di far perdere le sue tracce aveva mandato un sms alla famiglia e al suo fidanzato con l'invito a non cercarla. Il telefonino poi era stato subito spento. La ragazza, che si era allontanata da casa dopo un litigio domestico, era andata via con un borsone. Nella mattinata le ricerche erano riprese in tutta la zona di Preturo ma non si escludeva che la giovane avesse lasciato la città. La task force organizzata da Vigile del Fuoco coordinata dalla prefettura era stata allestita nei pressi di Villa Letizia a Preturo per i genitori e gli amici e di certo la fine di un'angoscia. Una notizia di cronaca adesso. Una donna di 40 anni nata a Milano ma residente a Colle Corvino è rimasta ferita in modo serio insieme alle due figlie la notte scorsa dopo la mezzanotte in un incidente stradale accaduto proprio a Colle Corvino lungo la strada statale 151. La donna al volante di un'auto con a bordo le due bambine di 9 e 13 anni avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura finendo fuori strada e andando a sbattere contro un albero. Le tre sono state soccorse dai sanitari del 118 la quarantenne è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Pescara dove si trova in prognosi riservata nel reparto di chirurgia. Ferite anche le due figlie la bimba più piccola è stata ricoverata nel reparto maxillo facciale con una prognosi di 30 giorni mentre la tredicenne è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni sulla dinamica e le cause dell'accaduto indagano gli agenti della Polstrada. E lunedì sarà a Ferragosto e allora in vista della festività del 15 a seguito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza il prefetto di Teramo Graziella Patrizzi ha inviato una direttiva a tutti i sindaci della provincia affinché sia realizzata un'opera congiunta dei diversi livelli di governo con un rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni locali e collaborazione società civile nell'ambito di un effettivo processo di sicurezza partecipata. Il prefetto Patrizzi ha anche sottolineato l'esigenza di un rafforzamento dei moduli di coordinamento tra polizie locali servizi sociali e associazioni di assistenza con particolare attenzione al fenomeno della Movida che soprattutto nelle località costiere potrebbe tradursi in situazioni di degrado ed illegalità nonché al conseguente controllo sull'ottemperanza alle ordinanze sindacali in materia di vendita di bevande alcoliche e di emissioni sonore da parte degli esercizi pubblici. Cambiamo argomento adesso la ripresa c'è e i dati sono confortanti l'edilizia in provincia di Teramo inverte la tendenza negativa e fa segnare un più 5% nei salari la cassa edile si attende una spinta dalla ricostruzione e dal master plan Alfredo Primante segnali incoraggianti dall'edilizia in provincia di Teramo dopo 8 anni di segno meno che hanno significato una perdita della metà della massa dei salari 600 imprese in meno e 3.000 operai senza lavoro il settore costruzioni torna a crescere con un incremento dei salari del 5% un dato interessante se unito alla ripresa delle compravendite del settore immobiliare più 2,1% la cassa edile auspica che la tendenza si confermi a fine 2016 ma affinché questo avvenga spiega bisognerà accelerare su tre punti fondamentali codice delle appalti che necessita di linee guida e decreti attuativi spesa dei fondi per la ricostruzione post-sisma e avvio degli investimenti contenuti nel master plan noi ce lo spieghiamo e stiamo forzando da diversi anni che si parte al regime perché ci sono diversi centinaia di milioni di ricostruzioni tra privato e pubblico penso che si tocchi 300 milioni tra cratere, fuori cratere e enti pubblici proprio la ricostruzione che potrebbe dare una grossa mano una grossa spinta a un settore che è stato veramente distrutto dalla crisi la nostra provincia è l'unica salvezza questa piccola ripartenza che c'è stata è stata dovuta anche al rinvestimento degli enti pubblici hanno rinvestito sulla sicurezza delle scuole sulla reggimentazione delle acque e anche sull'impianto di depurazione però chiaramente per la nostra provincia la manna dal cielo sarebbe che partisse a pieni voti la ricostruzione aspettate qualcosa in più forse anche dal master plan della regione sì, nel documento l'abbiamo citato adesso non so la tempistica del master plan anche lì ci sono circa 100-120 milioni che dovrebbero arrivare in provincia ci auspicchiamo che la cosa avvenga restiamo a Teramo perché il consigliere comunale Paolo Cardelli torna ad attaccare l'amministrazione Brucchi sulla vicenda del progetto di riqualificazione degli alloggi popolari di Via Longo chiede una nuova perizia tecnica sulle volumetrie un mando pubblico per il progetto definitivo e infine che l'amministrazione receda dal contratto e gestisca in proprio la ristrutturazione attraverso il bando nazionale sulle periferie che scade il 30 agosto dopo un esposto alla procura un'interrogazione all'assessore all'urbanistica Valeria Misticoni e una commissione andata deserta il consigliere comunale di Teramo Paolo Cardelli si rivolge alla stampa per mettere ancora una volta in luce la situazione delle case popolari di Via Longo il consigliere chiede a maggioranze d'opposizione dichiarire se favorivere o contraria al progetto della SGR 18 milioni di investimento complessivi progetto che è in ritardo e che inoltre secondo la Cardelli sarebbe viziato da errori nel calcolo delle volumetrie proprio oggetto dell'esposto in procura complessivamente con i suoi 96 alloggi Via Longo rappresenta un terzo del fabbisogno di housing sociale nel capoluogo a Prutino le prime due palazzine al momento sono state sgomberate mettendo in difficoltà anziani e disabili che li abitano a cui sarebbero stati offerti secondo i rappresentanti del centro politico comunista Santa Croce alloggi periferici e senza ascensore in più se non si sblocca il progetto continuo alla Cardelli di cui al momento esiste ufficialmente solo la bozza vincitrice a febbraio del 2015 del concorso di idee le graduatorie per l'edilizia popolare resteranno bloccate aggravando ancora di più la situazione quindi io diffido il comune dall'avallare un eventuale progetto definitivo che ad oggi ancora non è pronto con una semplice determina dirigenziale questa è la prima questione la seconda questione è che chiesi una nuova perizia di stima per sapere la consistenza degli immobili l'assessore rispose che se ne sarebbe occupata l'SGR ad oggi questa perizia di stima non è ancora disponibile quindi io chiedo una nuova perizia di stima degli immobili infine una nota sulla variante Toto e sull'ipotesi di teleferica a Teramo secondo il consigliere comunale di minoranza sono progetti da contrastare senza mezzi termini utilizzando i fondi per mobilità sociale e salvaguardia dell'ambiente e adesso parliamo del Gran Sasso Science Institute perché Eugenio Coccia è il nuovo rettore Giorgio Alessandri sarà Eugenio Coccia il primo rettore della nuova scuola universitaria superiore Gran Sasso Science Institute dell'Aquila che ormai è diventata a tutti gli effetti la seconda università del capoluogo la nomina annunciata da giorni è stata ufficializzata ieri ed è solo la prima di una serie che vedrà il GSI completare gli organi con un direttore generale il consiglio d'amministrazione e il senato accademico Coccia 60 anni già direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'istituto nazionale di fisica nucleare dal 2003 al 2009 ha guidato come direttore lo stesso Gran Sasso Science Institute nel triennio sperimentale dell'istituto attivato all'Aquila nel 2013 il neo rettore comincerà il suo mandato dopo il decreto di nomina da parte del ministero dell'istruzione dell'università della ricerca Stefania Giannini per il decano del senato accademico e dei docenti del GSI il professore Sergio Petrera l'elezione è il risultato più atteso da tutta la comunità dal più giovane allievo al professor Carlo Rubbia e il coronamento di un percorso in cui il neo eletto ha profuso tutte le sue energie operatori e portatori di interessi uniti per valorizzare la riserva regionale Grotte di Luppa e creare un marchio che tuteli i prodotti dell'area coniugare ambiente turismo e sviluppo socio-economico è quanto si sta provando a realizzare nella riserva naturale regionale Grotte di Luppa che si estende all'interno del comune di Sante Maria in provincia dell'Aquila su una superficie di circa 435 ettari proprio per questo il programma di iniziative estive e gli investimenti messi in cantiere sull'area sono stati studiati in sinergia tra i vari portatori di interessi dell'intero comprensorio di Sante Maria sia per promuovere la conoscenza dell'identità della riserva e la biodiversità che in essa è racchiusa sia per il riconoscimento delle produzioni tipiche che caratterizzano il territorio per le quali è stato formulato un regolamento che consentirà di avere un marchio che certifichi la qualità dei prodotti realizzati nell'area della riserva è una gestione piuttosto complessa perché parte da un dato di infrastrutturazione materiale e immateriale il cui avvio è avvenuto solo nei mesi precedenti ma che già sta dando risultati infatti la riserva ha diverse centinaia di visitatori che la percorrono e si sta dotando di tutti quelli di tutti quelli e mezzi necessari all'erogazione dei servizi quali quantitativi standardizzati sui massimi livelli abruzzesi e dei segmenti di turisti che vengono attratti è un sistema complesso è un sistema che ha bisogno ancora di tempo per essere rodato pienamente ma che si sta sviluppando secondo direttrici che sono quelli della Green Economy partiamo infatti dalla realizzazione di nuovi sentieri la manutenzione di questi sentieri la cartellonistica di servizio il sito della riserva la pagina facebook della riserva degli operatori qualificati che accompagnano corsi per operatori di riserva l'apertura del polo museale la riproduzione della grotta di lupa all'interno in una delle stanze del polo museale il calendario estivo con una serie di eventi tematici che portano alla sensibilizzazione e alla conoscibilità dell'area per poi giungere anche alla fase convegnistica che ci accompagnerà l'open day e la famosa sagra della castagna di sante maria con le sue decine di migliaia di visitatori saranno passi tratti da shakespeare i protagonisti della notte delle paure di valle castellana dal domani fino al 14 agosto teatro nel bosco per celebrare i 400 anni dalla morte dello scrittore inglese scoprire o riscoprire shakespeare all'interno del bosco di valle castellana è l'obiettivo della 22esima edizione della notte delle paure che il piccolo comune del terramano quest'anno ha deciso di dedicare i 400 anni dalla morte del grande scrittore commediografo inglese shakespeare 400 il bosco si muove questo è il titolo scelto per le 4 repliche dello spettacolo dal 10 al 14 agosto titolo che evoca il macbeth ma che racconta di uno spettacolo fatto di piccole grandi gemme tratte dalle opere più belle di shakespeare la cosa bella è proprio sentire dei testi meravigliosi delle cose che shakespeare ci ha regalato dal 600 cogliendo l'occasione dell'anniversario della morte di shakespeare con 400 anni noi in qualche modo vogliamo riportarlo nella natura perché i suoi testi stanno lì dentro come un gioiello quando vedrete a vederlo accorgerete che è una cosa unica è un testo sacro e in qualche modo allo stesso tempo universale invito tutti a venire e a sceglierci so che ce ne stanno tante manifestazioni in giro ma noi abbiamo qualche particolarità se non altro quella ambientale che è qualcosa di eccezionale appunto è un'occasione per scoprire anche il territorio e il circondario di Valle Castellana esatto diciamo che il progetto La Notte di Paure prevede anche quello quindi far conoscere il territorio tra l'altro mi rifaccio anche un po' al film che è stato realizzato con l'edizione 2014 che ho avuto modo di vedere in anteprima vi assicuro che è uno spot promozionale per il territorio favoloso che insomma mi auguro e poi magari sia usato anche per altri scopi La Notte di San Lorenzo quella di domani degustando i migliori prodotti delle cantine abruzzesi torna al porto turistico di Pescara Calici di Stelle appuntamento che vedrà riuniti 33 produttori con 90 diversi vini tutti orgogliosamente Made in Abruzzo Noi dobbiamo collegare sempre di più il nostro vino alle nostre cantine all'identità territoriale e fare in modo che il nostro prodotto sia legato al territorio attraverso queste manifestazioni riusciamo a promuovere questo concetto importante di promozione proprio nel 2015 abbiamo avuto un più 8% di export per quanto riguarda il settore vino risultate assolutamente brillanti il primo bando del piano di sviluppo rurale ha riguardato appunto la promozione 1.200.000 euro a disposizione dei prodotti agricoli regionali in particolar modo del vino Il cielo stellato della notte di San Lorenzo la romantica cornice del porto turistico di Pescara le melodie dei grandi classici della tradizione musicale italiana e al centro lui il vino abruzzese è questa l'atmosfera scelta dal movimento turismo del vino abruzzo per l'evento intitolato Calici di Stelle una manifestazione che come movimento turismo vino abruzzo solitamente cerchiamo di portare le persone nelle nostre cantine ovviamente in estate diventa difficile e questo bellissimo scenario di Pescara della marina del porto di Pescara permette di fare sicuramente da attrazione ai turisti che sono presenti sul luogo per far assaggiare non solo i vini del nostro territorio ma anche alcuni prodotti tipici L'iniziativa chiamerà raccolta ben 33 cantine abruzzesi pronte ad accogliere i visitatori con una selezione di oltre 90 vini tutti rigorosamente made in Abruzzo tra bollicine freschi bianchi rosati c'è il rasuolo e il classico montepulciano d'Abruzzo quest'anno ci sono altre novità quindi oltre a degustazione i vini con tutte le cantine si potrà degustare anche il vino tra cielo e mare grazie a un armatore che ha messo a disposizione un catamarano fiumare Abruzzo quindi si potrà degustare anche il vino facendo una passeggiata in mare Nella patria abruzzese della porchetta a Campli torna la sagra dedicata alla pietanza tipica che affonda le sue radici nei secoli tante le manifestazioni d'arte, sport e gastronomia a corollario della sagra andiamo a conoscerle nel servizio arte, storia e gastronomia questo è il mix vincente della sagra più antica d'Abruzzo nata nel 1964 la sagra della porchetta italica di Campli attrae ogni anno più di 100.000 persone che arrivano in provincia di Teramo per gustare un cibo antichissimo che affonda le sue radici nei secoli tanta storia e tanta arte che inizia dall'età del bronzo l'allevamento del maiale come abbiamo visto nei reperti trovati nell'antico borgo di Coccioli poi pensiamo al 1200 1300 quando i maestri porchettai di Campli erano i più bravi rinomati da Abruzzo insieme a quelli di Ripateatina il 22 agosto ultimo giorno della sagra c'è stata questa coincidenza perché avevamo invitato il professor Sgarbi per la città di donanza onoraria ciò per ringraziarlo per quello che ha fatto sinora per Campli perché voglio ricordare che grazie a lui abbiamo avuto un'opera molto importante la Madonna del Latte di Giacomo da Campli all'Expo la sagra è anche un concorso per stabilire qual è la porchetta migliore lo scorso anno vinto dal maestro porchettaio Nicolino Mercuri come tutti gli anni è una giuria di qualità composta la prima sera da editori e giornalisti la seconda sera da esperti enologi e anche da cuochi per cui insomma daremo la possibilità a tanti di poter giudicare la nostra porchetta insieme alla giuria popolare che comunque ha suo peso molto importante tante anche le manifestazioni collaterali per un evento che può essere votato sul sito Italia Live che racchiude le più importanti manifestazioni italiane sì diciamo che come ogni anno è il terzo anno che l'associazione Monti Gemelli Bike che è un'associazione sportiva dilettantistica di Campli ha organizzato un percorso cicloturistico che parte dal convento dei Cappuccini c'è un'iscrizione alle ore 8 della mattina e poi arriva fa tutto un giro diciamo proprio a ridosso dei Monti Gemelli tornano c'è la possibilità di fare la doccia e poi tornano a Campri in piazza per un party e adesso apriamo la pagina dello sport ovviamente partiamo con il Pescara Biancazzurri che sul mercato cercano di dare l'assalto al centrocampista dello Sporting Lisbona Alberto Aquilani che ha rotto con la società portoghese sempre più vicino il difensore della Roma Ghiomber intanto questo pomeriggio presentazione delle maglie questa sera l'amichevole contro la Vastese il Pescara lavora per riportare in Italia Alberto Aquilani il 32enne centrocampista romano e l'ultima idea è anche qualcosina di più del Delfino la rottura con il suo attuale club i portoghesi dello Sporting Lisbona ha convinto i biancazzurri a provare l'affondo per il Principino cresciuto nelle giovanili della Roma alle spalle di Daniele De Rossi ha attraversato dal 2004 in poi il gota del calcio italiano ovviamente prima con i giallorossi della prima era Luciano Spalletti poi l'esperienza oltremanica non proprio fortunata con il Liverpool il ritorno in padre in prestito prima con la Juventus e poi il passaggio in rosso-nero con il Milan la nuova giovinezza con la Fiorentina tre stagioni 81 presenza e 13 reti prima di emigrare di nuovo in Portogallo il Pescara ha avviato i contatti col giocatore e avrebbe già pronta l'offerta di un contratto di due anni per dare quantità ma soprattutto qualità alla mediana perché l'arrivo di Aquilani sarebbe davvero un gran colpo in attesa di vedere come verrà completato il reparto caldi ancora i nomi di Gnocuri e Grassi in difesa invece oltre all'ungherese Guzmich ci sono sviluppi sulla vicenda Ghiomber il difensore della Roma è stato escluso dalla lista dei 23 nomi per il preliminare di Champions League contro il Porto l'ulteriore arrivo di Vermalen gli chiude ulteriormente una strada che sembrava comunque già sbarrata il Delfino lo aspetta per rinforzare la retroguardia oggi intanto giù il velo sulle nuove divise per la prossima stagione nella massima serie al Marina di Pescara proprio poche ore prima dell'amichevole contro la vastese neopromossa in Serie D domani sera invece alle 20.30 la presentazione ufficiale della squadra che magari non vendrà ancora la rosa completa l'importante che lo sia per lo start del campionato e a proposito di centrocampisti abbiamo parlato di Aquilani uno dei protagonisti della stagione scorsa Ben Ali è carico per poter essere protagonista anche nella massima serie si avvicina all'esordio di campionato mancano ormai pochi giorni si inizia a sentire Ben Ali la pressione della prima con l'Innapoli sicuramente pressione no perché abbiamo preparato tutto il ritiro abbiamo lavorato come pazzi tre settimane di lavoro duro quindi nessun pressione andiamo in campo e divertiamoci come abbiamo fatto l'anno scorso prosegue la marcia di avvicinamento comunque al torneo che Pescara in questo momento c'è e quali sono volendo fare un gioco di percentuali qual è la percentuale di preparazione del Pescara oggi? Noi facciamo una partita alla volta quindi la prima partita c'è c'è il Napoli e poi il Sassuolo fuori e quindi ora cerchiamo di preparare il meglio affrontare una squadra forte come il Napoli poi poi dopo quello pensiamo una volta a una partita una volta ci saranno ancora delle amichevoli poi la gara di Coppa dunque una lenta marcia di avvicinamento verso la partita col Napoli però si parla in queste ore in questi giorni anche di mercato anche voi aspettate ovviamente l'arrivo di qualche giocatore no guarda noi non è una cosa nostra quindi noi facciamo lavorare come hanno fatto sempre la società massima fiducia che qui sono arrivati giocatori importanti arriveranno ancora giocatori importanti quindi noi cerchiamo di fare tutto in campo e la società farà quello che deve fare fuori Benali grande protagonista l'anno scorso in Serie B pronto ad essere protagonista anche il prossimo anno in Serie A sì sono pronto mi sento prontissimo perché ho lavorato tutto l'anno lavorato tutto l'anno con questo ambiente questi questi giocatori il mister il staff i tifosi quindi qui mi sento pronto non vedo l'ora di sordire in Serie A hai voluto fortemente voler restare qui a Pescara sì sicuramente tutto l'anno ho lavorato tanto come un pazzo per fare quello che potevo fare far salire Pescara in Serie A ho fatto il mio massimo perché volevo fare la Serie A con questi colori era giusto così perché questa società mi ha dato tanta stima tanta fiducia quindi giusto che siamo andati in Serie A insieme adesso scendiamo in Lega Pro oggi torna al lavoro il teramo di Lamberto Zauli dopo l'amichevole vinta domenica pomeriggio contro il Pineto intanto proprio oggi dovrebbe essere il giorno dell'incontro per la permanenza di Stefano Amadio in bianco-rosso il presidente Campitelli è certo che Amadio rimarrà ed ha anche una valutazione delle amichevoli precampionato del diavolo questi sono amichevoli giusto per mettere ossigeno ma non contano niente sono delle amichevoli senza che uno può pensare che gioca bene o male io credo che devono arrivare le partite vere per poter capire il teramo quanto vale le partite vere arriveranno la prima arriverà esattamente tra tre settimane la prima di campionato in un girone di ferro in un girone molto complicato che Campitelli vede come lo vedo molto molto difficile perché credo che sia al sud ci sono quattro squadre importanti qui credo che ce ne sono sei sette e quindi noi che forse l'anno buono eravamo avvantaggiati perché c'era solo l'Asconi e qui dobbiamo cercare di fare il massimo e poi capire alla fine per poter arrivare tra le prime dieci per chiudere se dovesse oggi spendere un euro sull'eventuale permanenza di uno Stefano Amadio che abbiamo visto soprattutto nel corso del primo tempo veramente uomo d'ordine uomo a tutto campo del centrocampo ci punterebbe un euro? Ma Amadio resta a teramo cioè molte volte leggo cose giustamente che che fanno piacere leggere ma Amadio resta a teramo è un giocatore del teramo continuerà con noi allungheremo il contratto quindi noi martedì o mercoledì chiuderemo la trattativa Amadio quindi noi questi problemi sicuramente non ce li abbiamo Amadio è un giocatore per noi importante quindi credo che non ci sono nessun tipo di problemi Niente latino quindi? Assolutamente no Escursioni cicloturistiche in mountain bike nello splendido scenario di controguerra il comune Viberatiano si inserisce nel connubio trasporto e valorizzazione del patrimonio enologico In mountain bike tra le colline le aziende vitivinicole del territorio la terza edizione di controguerra Wine Bike anche quest'anno è rimasta fedele alla filosofia di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità e tradizioni l'escursione cicloturistica guidata si inserisce all'interno del programma che ha visto il comune Viberatiano aderire all'associazione nazionale Città del Vino forte della sua vocazione fama internazionale in ambito enologico La nostra terza edizione della controguerra Wine Bike ne siamo veramente orgogliosi fieri è un percorso scisso in due fasi un primo un po' più facile quindi noi chiamiamo un percorso azzurro un po' più complicato è il percorso rosso il percorso azzurro gli abbiamo dato il nome dell'Opisciarilla perché c'è una fonte storica e quindi l'abbiamo caratterizzato con quel nome e invece l'altro un po' più scosceso è quello che è il versante nord che guarda il tronto quindi dove ci sono dei calanchi l'abbiamo chiamato dei calanchi è un bel percorso soprattutto perché passiamo sul nostro territorio rurale che io oso dire è un meraviglioso territorio rurale quindi fatto di vigne fatto di oliveti ci si diverte e soprattutto tocchiamo tutte le nostre cantine che sono delle vere eccellenze sul nostro territorio quindi sarà sicuramente una giornata bella perché c'è il sole ma anche molto molto interessante insomma il tutto alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio con tutte le sue tradizioni enogastronomiche culturali un bel patrimonio sì assolutamente noi ci freggiamo da essere città del vino città dell'olio dall'anno scorso siamo anche città slow quindi rete internazionale delle città del buon vivere noi siamo veramente orgogliosi di questi titoli che ci abbiamo e li vogliamo difendere e questo era anche il nostro ultimo servizio seconda edizione della telegiornale questa sera alle 19 per il momento è tutto vi ringrazio per l'attenzione buon proseguimento di giornale grazie a tutti